Il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi Il Vangelo che aveva tutte queste cose nel suo cuore E com'era il cuore di Maria sotto questo punto di vista Rileggo con voi sia la colletta fatta all'inizio della Santa Messa E poi un po' con le prime parole del prefazio che ascolteremo tra poco Che sono proprio un commento A cui aggiungeremo qualche piccola cosa A questa espressione del Vangelo di San Luca Io ho chiesto al Signore a nome di tutti O Signore nostro Dio Che nel cuore immaginato di Maria Nel vostro la dimora del Verbo e del Tempio e dello Spirito Santo Attenzione Donaci un cuore puro e docile Perché sulla via dei tuoi comandamenti Impariamo ad amarti sotto ogni cosa Sempre attenti alla necessità dei fratelli Perché la Madonna servava queste cose nel cuore Perché qui c'era un episodio misterioso, doloroso e misterioso Lo smarrimento di Gesù nel tempo che abbiamo proprio meditato Con i 15 minuti di meditazione Come si reagisce in un episodio di questo genere? Servandolo Con che tipo di disposizione? L'essere docile Io vi do' oggi a fare molta attenzione a questa espressione Docile viene dal greco doceo Doceo Il verbo greco significa imparare Le persone docile sono quelle che sono coscienti di dover imparare Per imparare devi essere utile Devi lasciarti ammaestrare e devi lasciarti condurre O devi pensare di sapere già tutto O avere resistenze all'azione della grazia di Dio Chi ti vuole ascoltare in meditazione sulla divina volontà Io spero che lo santo sia attivo nei vostri cuori Devi imparare una relazione fondamentalissima Per vivere in questo mondo Con queste quanta gente mi viene Come devo fare? Come devo fare? Voglio uno schiaccio di vita Non c'è una ricetta magica Tu devi aprire una serie di fronti Come dire di attenzioni Un fronte fondamentale Che tu devi lasciarti plasmare da Dio Devi lasciarti condurre La vita non la devi guidare tu Devi entrare nell'ottica di quello che Dio ti vuole Devi lasciarti condurre dove vuoi Vi ricordate San Pietro? Nel Vangelo di San Giovanni Che dice Ma Gesù li profetizza il martirio E poi San Giovanni dice Fa niente E cosa gli dice Gesù? Dice Adesso vai dove vuoi Ma quando sarei vecchio Prenderai le mani e starei mostrato dove tu non vuoi Dove tu non vuoi? E ricordate il Poadis A Roma Ma sapete che è l'esperienza del Poadis C'è la persecuzione dietro Si dirige Prudentemente fuori Roma Gli appareggio con la croce sulle spalle Che stava andando verso Roma Dice Poadis Dove vai? Sto andando a Roma A morire un'altra volta Perché tu non ci vuoi andare Vedi? Ecco Cuore dolce La Madonna che serve a queste cose Non ha capito Ha subito tutto Non dobbiamo guardare Che la Madonna è Capite Ma il nostro Signore Volutamente Perché capite Se la Madonna Avesse vissuto una vita Dove c'era un film Dove già sapeva tutto 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 Che meriti avrebbe avuto? Non avrebbe un po' di uscitare La fede eroica L'abbandono eroico Capite? Quindi Sapeva le cose fondamentali Sapeva che Gesù sarebbe Detentore Sapeva Ma non sapeva Tutto nei minimi dettagli Cioè ogni mattina Lei apriva il file E secondo per secondo Vedera tutto quello Che sarebbe successo Non immaginiamo così La vita della Madonna Questo è un episodio Che per lei è stato significativo E che ci ha dovuto Pensare sopra Nella sua straordinaria Meditazione Così come meditiamo anche noi Nel prefazio Questo prefazio è stupendo Ci vorrebbero dieci omedie Per questo prefazio Come mi invito ad aprire bene Le orecchie Io cercherò di muovere bene La bocca La prima cosa che dirò Dopo È veramente cosa buona e giusta Sono queste parole Tu hai dato La Beata Virgine Maria Sentire l'espressione Un cuore Sapiente E docile La seconda volta Pronto ad ogni cento del tuo volere Un cuore Sapiente E docile Pronto ad ogni Pronto Ad ogni cento del tuo volere Hai visto Ma non è pronto Come fa un essere pronto Dio si può fidare Di te Può stare tranquillo Che se ti fa capire una cosa Non fa Ma che te Ma far te la capire Che tu già hai Piare E sei pronto Ad ascoltarlo A discegliere la sua parola Come fa Il suo uomo Non essere pronto Se ha Un cuore Docile Attento Estroverso Hai sentito qualche meditazione Dei giorni scorsi Le anni che pensano sempre a se stessi Non sono sempre sentite le meditazioni Che un po' di via Ma le stanno sempre a pensare a se Cioè pensare a se stessi È l'antidivina volontà Non soltanto preoccuparsi di se stessi Beh già non dovrà O ripiegarsi di se stessi Non ne parliamo Ma già pensare a se stessi Capite Perché c'è un'attenzione Io sto attento A quello che Dio Vuole da un attimo presente Capite Qui non ci stanno ricette mediche Perché io non so Cosa vuole da te E il Signore dell'attimo presente Sei tu E devi fare attenzione E devi imparare E andiamo a stare In questa dimensione Se vuoi vivere questa vita Capite I frutti della vita Nella divina volontà Nell'umana volontà Basta che uno sia Semplicemente sincero Con se stessi Guarda come stai Capite Non 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 c'è possibilità Lo risentiremo Sapete Ogni volta Ogni sabbato C'è una meditazione C'è sempre una parte C'è sempre questo contrasto Tra un'esplosione Di gioia Di felicità Di serenità Di benessere Che si vive Che si vive nella divina volontà E il contrario Che si vive Nell'umana volontà Non ci sta Non c'è Terzi In un dato Come dicevano i romani O è così O è così Capite Quindi E attenzione Che l'ago della bilancia Io leggevo stanotte Uno screenshot Antico È tutto Dalla parte Nostra Perché Dio ha già deciso Quella nostra vita Per quanto sta in modo Dio vuole Che noi viviamo Una bella vita Siamo noi Che ci Autocondanniamo A vivere Una brutta vita Le prime meditazioni Della Vergine Una vita bruttissima Piani sofferenze Anzi Dei più gravi martiri Peggiori Ma A differenza Del martirio Quei soffri Adesso Dove passare Una brutta mezz'ora Un'ora Da giornata Allora dopo comincia Il paradiso No Questo è un martirio Che ti fa generare la vita E poi ti porta al pugatorio Se tutto va bene Perché sono sofferenze Che non c'hanno nessuno Davanti a Dio Perché sono tutte quante Autoroflitte Inutili Capito E non dovute al fatto Che il Signore Ti prova Ma dovute al fatto Che tu volendo fare La volontà Stai continuamente Angosciato Triste Nell'abbiriti Delle situazioni Eccetera eccetera La prima cosa Un cuore Docile Saviente Pronto Ad ogni cielo Per divino Vedi Questa è la prima cosa Non è quello Che si deve fare La prima cosa È ascoltare Farsi attenti A quello Che dire Ci mettono avanti Nell'istante presente E nei tempi Che la nostra esistenza Capito Se non cambiamo mai Non è che Dio Non ci vuole Non vuole che cambiamo Ma noi Stiamo Assecondando Le operazioni Di Tio E lui Continua E andrà avanti E non lo Cambiere Continuerà Andrà avanti E non lo Continuerà E poi La vita è finita E finita Pannotte Capite Ma se Glielo Chiederemo Che ci dia Un cuore Saviente Puro E docile Attento Alla sua parola E sempre Voto All'esecuzione E ad ogni Minimus Dei Divini Volere Siamo Dati Gesù E mai Sempre Siamo Dati